Cosa è successo oggi? Cosa è successo oggi qui? C'è la mia bella anche di quella macchina Sì? Che ne dici? Perché non fai un bel pupazzo? Mi fai, ce l'avevo anche chiesto Ce la farai? Sì, però è troppo fredda, se no li lancio le palle Oh, aspetta! Poffete! Ciao! Dammi la mano Bisogna mettersi i pattini qua Sì Allora, adesso li faccio vedere io Che cosa hai in mano? Che cosa hai in mano? Stai! Stai! Questa è grassa Oddio, aiuto! No, no, quella no, quella no Quella no, ho paura, ho paura Adesso mi vendico Mi vendicherò Ah, 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 ah Cosa stai facendo, Alissa? Una pallone no, 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 ti prego, ti prego, sono la tua mamma Non puoi farmi questo No Guardala Ah, 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 ah ah, a me è già agghiacciata tra poco divento frozen ciao Kiro vuoi giocare con noi? no mi lascio a fare le mani il pupazzo dai va bene ora facciamo il pupazzo se ci basta la neve se no la dobbiamo andare a raccogliere ciao a tutti